Sì, io e Virginia siamo tornati insieme, ma non dall'altro giorno. Quella foto è uscita per errore. Andrea Severini, marito di Virginia Raggi, ha confermato così le indiscrezioni lanciate da Il Messaggero dopo che, in occasione del Natale di Roma, sull'account Twitter della Sindaca di Roma era uscita una foto di loro due insieme durante i festeggiamenti.Virginia Raggi e il marito Andrea Severini di nuovo insieme. La foto su Twitter confirma la reunione sempre a Il Messaggero che Severini, 46enne capotecnico del suono a RDS, confirma telefonicamente il ritorno della coppia Virginia e contenta, ma è molto riservata. Siamo tornati insieme da qualche tempo, ma quella foto è stata un errore dello staff, non doveva essere pubblicata sui social. Va detto che Andrea Severini, ardente attivista del Movimento 5 Stelle, è sempre stato vicino alla moglie, sin dai primi tempi della campagna elettorale per le amministrative del 2016. Il Movimento 5 Stelle riuscirà a cambiare Roma, ne sono certo, punto per riuscirci avremo bisogno anche dell'aiuto di tutti i cittadini, ha aggiunto Severini, noto per le difese a spada tratta dell'operato dell'M5S e per le polemiche col ministro Carlo Calenda. Forse sono anche più grillino di Virginia, ma siamo impegnati per il bene della città. Quando però gli viene chiesto se va ancora in bici, con tutte le buche lungo le strade di Roma, Severini Italia corto adesso devo andare, sto lavorando in radio e sono in diretta. Il cancelletto Natale di Roma con migliaia di persone a due passi dal Colosseo è stata una festa lunga tre giorni. È stato fantastico vedere tantissime famiglie, bambini, turisti passeggiare e assistere agli eventi insieme. È stato il nostro regalo ai cittadini.https-t.co-srxzkq6a1pic.twitter.com.it Grazie a tutti.